oh c'era l'esercito ci ha fermato che bello dai ci facciamo una partitura l'ho fermato all'esercito addirittura o lavoriamo su a chi fa più buche e facciamo prendiamo la stecca a testa che c'è c'è una mattatina la macchina dove la vedi? davanti giù vabbè lasciamo per le giochiamo per ora ho già messo finizia comincio io allora fino a che faccio buca vado non era finchè finchè continui a fare buca potevi dire no? allora fino a che fai buca ti conto un punto facciamo ora tocca a te dopo tocca aureliano aureliano prendi la stecca aureliano tocca a te guarda la 12 punta posso anche punta? eh che pensieri ma la vado io ma la facciamo noi due però no nooo per poco oh? nooo guarda va cosa stai facendo? rompi tutto il tavolo così nooo 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 in quanto tempo l'esito di passi qui in giro aurelo vabbè sarà.. diciamo.. impressione ooooo vabbè continua, continua e andiamo, francone vabbè vabbè eh no cazzarola hai fatto buca? si si ho messo la 12 stai attento a non prendere la 8 perchè se prendi la 8 te l'ha persa eh lo so lo so e l'altra ne ho messo 2 bella bella questa ok eh ma sono un po' messi male ma andate per qua nel porto signore ma penso che ce la faccio però ma scusa ma giochi col pad? si sventra proprio si ok sono di quelli che arrivano dal gta di playstation 3, 4, 5 quindi non lo posso usare anche non lo posso usare anche la dottiera potrei usare anche la dottiera mamma mia troppo forte stavolta oh oh questa verde qualanzacchi bravo ragazzo eh ma qui non penso di poterci riuscire eh io darei un bel botto a quelle palle lì oh 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 mamma mia mamma mia che roba hai fatto poi è stata bella eh 33, 27, 34, 43, 36 tutti in assistenza grazie ragazzi vi dico chi sono loro sono quelli e il gruppo di Alex Spiro sono quelli che sono venuti prima a farmi la riparazione in 5 persone eh secondo me 5 persone sono loro o loro o un altro gruppetto da 5 ragazzi però loro erano i 5 eh quindi ci può darsi che hanno fatto qualche cazzato vediamo niente anche dai 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 no smazzo laggiù bella secca mmm te la butto pure io così non li hanno tutto bene eh l'ho separato un po' almeno sta a posto? ok ok smazzo anche lì oh cazzo nooo no la pallina guarda dove va oh 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 guarda qua scusi no ho rotto un vetro a una signora ho rotto il vetro a una signora ho rotto il vetro a una signora ho rotto il vetro a una signora ho rotto la pallina spuzza è andata un po' oltre è andata troppo forte buca no è buca eh è buca vale eh dai te la do buona dai eh ma non va più tocca a te hai ragione il gruppo di Alex Spiro mi sa raga andate a vedere in live da Alex vedete se sono loro fatemi conferma questa è una buca vero dai l'ho provato l'abbia stato bello eh questa te la te la riccio a fare se la faccio questa è questa è come se fosse facile Alice mamma mia mamma mia Frencone è questa te la ti metto per forza guarda la rossa questa è dentro nooo mamma mia guarda che volevo far quello cioè volevo far quello vai 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 devi mettere questa eh devi mettere quattro mamma mia grande Frenkis i giocatori sono questo è impossibile smazzo bella forte muoviamo un po' il banco muovo il banco vediamo vai dai dai oh no no la 8 di sponda va buttata dentro la nera passa qua tornatemi alex piro se è live se se è lui che l'hanno cosato nooo ne indovina un po' che la butta quella eh vabbè dai dai spaccato è un po' difficile eh ci provo vabbè dai per forza a meno che non sbatte senza me l'angolino e rimbalza a posto vada bella Satsu bella Johnny vieni Satsu osatsu mi fai un favore ti cambi quel nome con Johnny cos'è Satsu un minuto scherzo serve WL ragazzi, WL si 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 serve WL italiano con più player, più RP fatto bene in questo momento è il migliore con l'RP e più popolato con la WL eh ovvio senza WL andate su altri serve italiani ci sono sento all'otto eh mamma mia vai ultime due palle e poi ci abbiamo l'otto Frank ma questa voce no dai come da un po' nooo mi so mi so che è successo? ah posso muoverla mettere dove mi pare ah l'hai messa in buca quella bianca? allora posso metterla dove voglio la fa mettere quindi me la metto qui bello funziona bene con questa cosa qui perfettamente sii frencone ne fai due eh stai di bene ottio rimane la gialla e poi rimane la nera risponda eh eh me la sbaglio se non è questa lo dico un altro metodo si tutto cotto tra 10-15 minuti niente fai con calma fai tutto quello che devi fare e poi vieni ok lo sapevo lo sapevo guarda eh ma è è ancora complessa ti avrei messa male qua eh gli dai una bella botta di lati mamma mia frencone eh vicino 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 basta attenti alla 8 ora mettimela meglio eh non so mirare troppo bene quindi non ho mai giocato così tanto ora me voglio avvicinare dai che tu ora bravo Anthony bel tiro te l'ho regalata te l'ho regalata wow 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 è ok te l'ho regalata dai e ora c'è da fare l'ultimo no pallino vaffanbrodo tocca a te devi posizionare il pallino devi giocare di sponda se la butta dentro ho perso secondo me non ce la fai è vero è verità che non so giocare però è proprio lì se metti la 8 black story ma dove andate ragazzo la palla in buca finita ma dove andate ragazzo si vede che hai scelto un altro tipo di gioco ah ok devo posare devo posare la steca oh però è bella è bella si si no dei bei torneggi possiamo fare eh poco da dire comunque hai vinto tu e non di poco dai ho fatto qualche buca in più dai